si trasmette adesso? si, si, ci siamo ritornati. ci siamo? si, si. ok. eh boh, forse anche spostando non è riuscito a riallineare la connessione. no, è semplificato rich. eh si, perché comunque la connessione è quella buona. allora, ehm, vogliamo riprovare? oh, dico, vogliamo provare a fare questa cosa? secondo te servono tutti e quattro i pezzi? ma quanti pezzi ci sono? tre. eh no, c'è meno quattro. è quello il pezzo, è quello, quell'oggetto là. è sicuro che non è sufficiente fare solo con quattro i pezzi? secondo me no, però possiamo provare. provare almeno. allora, la tour del cavallo sono sullo stesso muro, la fiera e la regina non sono l'uno accanto all'altro. non significa che la fiera o la regina siano comunque vicino alla tour del cavallo. infatti, stanno sull'altro muro a pagare, dovevano stare a vivere la regina. vedi questa, che cosa era? vivere la regina. l'altro muro a pagare, dovevano stare a vivere la regina. vedi qua. 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 non può mancano gli altri no allora ce ne vogliono sei addirittura ce ne vogliono sei allora cazzo alfile e regina non sono l'una accanto all'altro torre e cavallo sono sullo stesso muro si vabbè ma secondo me ce ne vogliono sei e a sto punto pensavo così quindi rimettiamo alfile qua che ci sta anche il tredone che tu già hai tra l'altro ho risolto i colleghi prima che rimane e l'ultimo che rimane è quello che li ritroverai ancora penso a me ma poi ci sono dove devi andare ora come ora andiamo alfile andiamo alfile ottimo eccolo qua c'è stanno parecchi le cose c'è anche due otto sei rotte richiesta identificazione con bracciale per la funicolare facciare c'è uno strumento guarda la vestita mi ha dato sapato e forza c'è tutto a conseguenza Cassaporto in minifuga? Scritto in alto con un breccio assolto sui rivoluzione per il primo utilizzo. Ah! Stava scritta, bastava cercare meglio. Eh, però va, però non è dato non sarà video. Ehi, ma c'è scritto... Assicuratevi di modificarla e cancellarla dopo il primo utilizzo. Quando c'è l'analisi? Sì, mi lasso usare più a tutti. Non fa, non è appoggiare per chi le nero. Non ti avessi mai accorti. Non c'è più l'obzione. Sì, non c'è più l'obzione. Sì, è appoggiato. Non c'è più l'obzione. Non c'è più l'obzione. Ecco, anzi, sinistra 2, destra 12, sinistra 8, eh, per chi mi è preso, non hai mai controllato, allora, eh? Ah, il calcio, quindi che ha di particolare? Quindi praticamente, nessun primo pezzo, no? Questa è la macchina di pochina? Questa è la sua barra? Ah? Questa è la qualsiasi? Qual è la? Questa è la qualsiasi? A te c'ho pure la manovrella Eh? Dove li evitavano? Non c'è nient'altro? Non c'è nient'altro? Ho portato tutte le torte con la manovre No? Fuori lascia. Ho portato con la manovrella Ah, la manovrella No, non c'è nient'altro Lascia, non c'è nient'altro Intento che non c'è niente Vediamo a vedere dove abbiamo sbloccato prima, vediamo Grazie. Oh, io questi la cartellati non sono... devono muovere più. Qua dice che c'è qualcosa. Oh. Ah, qua. Sì. Ah, era questo. Ah, ok. Bloccando il passaggio possiamo prendere il pezzo e tornare indietro. Grazie. Ma, già capito, non l'hai fatto prima di cominciare a giocare a Resident Evil. Ancora prima di iniziare a giocare a Resident Evil, già sapendo. Chiave. Salta. Una chiave con legge. Chiavi delle funglie Cavallo cavallo? Eh, cavallo 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 Ci stiamo nelle funglie o... Sì, parola Bacchiamo il donato C'è una rotta qua Un po' là No, è rotta Si deve fare dall'esterno Dall'altra parte Questa è rotta, eh? Stata obbligata Cioè si sblocca dall'altra parte Che diavolo era quello? Oddio, ma è sempre peggio. Qua secondo me ci divertiremo. Qua secondo me ci divertiremo. Viene un po' di male Ma è una coppia Non è stata morta Ah, è una coppia Non è stato morto Non è stato morto Non è stato morto Ha ferito Bruta È morto No Non è stato morto Grazie a tutti. 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 E prendo l'arma. Lancia fiamme. Da. Lancia fiamme. R2 per sparare con lancia fiamme. Più a lungo dare il fuoco. Un messaggio più grande saranno le fiamme. Finalmente. Guade Luca. Ecco. Dove si rifornisce. A precedenza è una costa fiamme. Un'altra costa di portare un'altra costa di portare. Un'altra costa di portare. però sopra pure c'è qualcosa iscriviti al canale sopra 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 sopra